Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi è la giornata delle fonti Public Affairs Awards e all'interno il community engagement ha un ruolo particolare. Qual è l'approccio di generali al community engagement? Noi abbiamo lanciato un progetto un paio d'anni fa che si chiama The Human Safety Net che ha l'ambizione di aiutare le persone più svantaggiate nelle comunità in cui operiamo in tutto il mondo. L'approccio che abbiamo scelto è stato un approccio di impegnarci tutti negli stessi ambiti nei vari paesi in cui operiamo per poter fare massa critica e cercare ovviamente di avere un maggiore impatto. Per fare questo la nostra chiave non è di farlo solo come assicurazioni generali da soli ma di cercare di coinvolgere una rete, infatti l'iniziativa si chiama The Human Safety Net Rete che possa portare con noi anche i nostri dipendenti che hanno voglia di partecipare. Stiamo già ricevendo numerose prove della volontà, della voglia di partecipare di tutti i nostri colleghi in giro per il mondo, di cercare di portare con noi gli agenti e i clienti che nel mondo generale ha più di 50 milioni di clienti, quindi una possibile rete di alleanza importante e poi anche altre aziende e altre organizzazioni che hanno a cuore gli stessi problemi che noi vogliamo provare a risolvere. Per poterli risolvere l'innovazione, come si fa a portare innovazione in un campo come quello del community engagement? Innovazione ci sono vari modi, ci vuole innovazione per cercare di coinvolgere i dipendenti, il che vuol dire quindi cercare di capire che cos'è che loro possono dare e come possono darlo, quindi trovare delle forme che possano consentire ai dipendenti di partecipare in modo agile, in modo facile, in modo partecipato. L'innovazione si può fare cercando di coinvolgere i clienti e quindi stiamo studiando delle modalità che possano cercare di far partecipare i clienti alle cose che noi facciamo e poi direi una cosa molto importante è anche lavorare insieme ai partner, perché il modo in cui la Human Safety Net e le assicurazioni generali lavorano non è utilizzando solo proprie persone, ma anzi utilizzando soprattutto alleanze con quei volontari che attraverso NGO, organizzazioni di impresa sociale operano sul territorio. Un'innovazione in questo campo è la misurazione dell'impatto, perché per avere impatto quello che è importante, proprio perché dietro ad attività di questo genere ci sono degli investimenti, è far capire qual è il valore dell'investimento in funzione dell'impatto che si raggiunge e quindi l'impatto va misurato, non è una cosa facile e noi stiamo studiando insieme ai nostri partner metodi innovativi per misurare questo impatto. Speriamo di poterne rendere conto al più presto anche noi attraverso i nostri canali. Io ringrazio Simone Bemporet che sarà anche tra i protagonisti del CEO Summit, per cui lo ritroverete tra poco anche sul nostro palco. Alexandra, da me in questo momento è tutto perché gli awards stanno per cominciare, per cui restituisco a te la linea e poi ci rivedremo anche sul palco. Grazie a tutti.